Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata alla vicenda che sta tenendo banco a Gela nelle ultime ore. Ci riferiamo alla spraquerella accesa tra il Consiglio Comunale di Gela e l'assessore Eugenio Catania ad un suo post affidato al social network Facebook, l'esponente della giunta messinese adesso chiede scusa riferendo che non era sua intenzione offendere. Sentiamo. Assessore Catania, lei rappresenta una carica istituzionale non indifferente, ma si è mai chiesto che bisogna poi porsi un limite e dunque non offendere soprattutto i consiglieri comunali? Io non ho mai offeso i consiglieri comunali, almeno nei miei scritti è proprio difficile trovare un'offesa ai consiglieri comunali. Se offesa, secondo l'interpretazione di alcuni consiglieri comunali, possa esserci stata, chiedo scusa perché comunque ritengo che il Consiglio Comunale, in quanto istituzione importante della nostra città, nel contesto democratico, nella guida dei comuni, costituisce uno degli organi principali insieme alla giunta per amministrare la città. Però lei si deve accercare, già era accaduto con l'architetto Tuccio, adesso anche con i consiglieri comunali? Tuccio ha sbendito che ha avuto un'aggressione fisica, ha parlato di alterco verbale, da qui a parlare di aggressione nel caso di Tuccio non vi era stato, come in questo caso non c'è stata nessuna offesa ai consiglieri comunali. Però già un alterco verbale è preoccupante se arriva da un amministratore comunale? Beh, un alterco verbale uno può avere una discussione, io ho un carattere che può essere interpretato come forte e quando mi interpongo con le persone pensano che abbiano la mia stessa tipo di tembra. Quindi magari sbaglio in questo a ripenere che tutti hanno il mio tipo stesso di carattere e magari quando vado nel sottolineare alcune cose lo faccio in maniera dura, ma da qui a parlare di aggressione, ci sono diversi tipi di sensibilità, come disse allora l'architetto Tuccio, e vuol dire che io ho una soglia di sensibilità un po' più alta rispetto a lui. Tutto questo potrebbe comportare un suo allontanamento da parte della sindaco messinese? Se il rapporto di fiducia viene a mancare è normale che viene a mancare anche il rapporto con l'assessore. Noi come assessore siamo sempre in bilico e non abbiamo quindi, non abbiamo che avere paura insomma del nostro futuro. Lei diceva che tutti gli assessori sono in bilico, ma quello che è più in bilico è lei, perché è lei che se le va a cercare. Ma non è proprio così insomma. Perché non è proprio così? Lei ha la tastiera facile. Non capisco perché tutti gli altri possono scrivere, io non abbia la stessa libertà di poterlo fare. Tra l'altro lo faccio da molti anni, non sono stato mai querelato, diversamente da alcuni professionisti che invece le querele li beccano ogni giorno. Dunque si chiede scusa ai consiglieri comunali? Senza dubbio. Chiedo scusa se ho urtato la loro sensibilità, anche se comunque nel posto non c'era nessun riferimento ai consiglieri comunali e non li avevo etichettato come Lecchini o come null'altro. Non lo farà più? Assolutamente, se lo farò, lo farò in maniera diversa. Assoluzione per l'ex presidente del Consiglio Comunale di Gela, Giuseppe Fava, esponente del Partito Democratico. Cade l'accusa di molestie sessuali. È stato il giudice dell'udienza preliminare Paolo Fiore ad emettere il verdetto. L'ex presidente era finito davanti al GUP dopo la denuncia sporta da una lavoratrice del reddito minimo di inserimento impegnata in attività a Palazzo di Città. La donna ammise di essere stata più volte al centro di richieste da parte dello sesso Fava e di vere e proprie molesti a sfondo sessuale. Accuse che sono state rigettate non solo dall'imputato ma anche dai suoi difensori di fiducia, gli avvocati Antonio Gagliano e Rocco La Placa. Proprio la difesa ha esposto in aula l'esito di una serie di approfondimenti investigativi che avrebbero escluso qualsiasi contatto tra l'imputato e la lavoratrice. L'assoluzione è stata pronunciata al termine del giudizio abbreviato. I magistrati della procura avevano chiesto la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione ritenendo fondate le accuse. La donna che denunciò le molestie invece ha scelto di costituirsi parte civile. Adesso parliamo dell'audizione ieri in prima commissione affari istituzionali a Palermo sul disegno di legge di variazione dei confini territoriali dei liberi consorsi che riguardano in particolar modo Gela, Piazza Armerina Niscemi e Lico Deo Bea comunica attraverso il referendum. Hanno già deciso di staccarsi dall'ex provincia di appartenenza. Vediamo. Audizione ieri in prima commissione affari istituzionali a Palermo sul disegno di legge di variazione dei confini territoriali dei liberi consorsi e che riguardano in particolar modo Gela, Piazza Armerina Niscemi e Lico Deo Bea, comuni che attraverso il referendum hanno deciso di staccarsi dall'ex provincia di appartenenza. Erano presenti i sindaci delle città interessate e i componenti dei comitati per lo sviluppo dell'area gelese e gelensis populus. Tutti hanno ribadito di volere aderire alla città metropolitana di Catania nel rispetto delle scelte effettuate dai consigli comunali e dalle popolazioni. Il sindaco di Gela, Domenico Mersinese, nel suo intervento si è soffermato sui danni incalcolabili che queste comunità subiranno rimanendo in questo pericoloso limbo che ostacola la programmazione e le iniziative collettive con gli altri comuni della città metropolitana di Catania. Il primo cittadino di Piazza Armerina, Filippo Milodi, ha sottolineato la necessità di dare risposte certe e immediate agli elettori e alle popolazioni coinvolte nel rispetto delle regole che una democrazia si dà attraverso le leggi. Hanno detto loro anche i rappresentanti delle varie associazioni. Non è piaciuto l'intervento del deputato regionale del Partito Democratico, il gelese Giuseppe Arancio, il quale ha reiterato la sua contrarietà alla scelta di queste comunità di passare con la città metropolitana di Catania. Arancio, si legge in una nota diffusa dal Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, ha adotto argomenti ritenuti assurdi e pretestuosi al solo scopo di suggerire ai membri della prima commissione gli appigli per rinviare il più possibile ciò che oramai è inevitabile e, secondo gli altri presenti, improcrastinabile. L'assessore regionale alle autonomie locali, Luisa Lantieri, invece ha ribadito che i referendum sono validi. Ciò è stato comunicato dall'ufficio legislativo regionale con provvedimento già pubblicato sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana. Ora si tratta pertanto di prendere atto di scelte già fatte nel rispetto delle leggi vigenti. Il presidente della prima commissione, sottolinea invece Giorensis Populus, ha dichiarato che a suo parere questa vicenda risulta ingarbugliata e poco chiara, aggiungendo che l'articolo 2 della legge sui liberi consorsi, che parla della definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari, pone molti problemi all'amministrazione regionale sulle procedure di suddivisione. Nonostante queste dichiarazioni negative emerse dall'incontro, il comitato Giorensis Populus non si rende rilanciando di volersi fare portavoce delle stanze dei cittadini del gelese, istanze che saranno portate in ogni sede consentita proprio per difendere un percorso che i gelesi hanno diritto a vedere finalmente concluso. Sempre più insanabile la frattura tra il sindaco Domenico Messinese e i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. L'occasione per l'ennesimo scontro è la questione acqua. I consiglieri criticano la decisione del primo cittadino di sospendere il servizio di fornitura con autobotti comunali, imponendo lo svolgimento del servizio a calta acqua. Il sindaco, espulso dal Movimento 5 Stelle, scrivono i consiglieri, Grillini lo fa lo sceriff e dichiara guerra a calta acqua. Costa troppo al comune, scrivono eronicamente i consiglieri Grillini, garantire un diritto. Chi la fornirà però non è dato saperlo. Nel frattempo i cittadini guardano assetati. La preoccupazione del gruppo consigliare 5 Stelle è rivolta ai quartieri come Settefarine e Poggio Blasco, dove la rete non arriva, e che con questa presa di posizione di Messinese perderebbe il diritto all'acqua. Poi il sindaco prende Manfria come scusa, ma taglia l'acqua a tutti, tira a dritto e fa la guerra dei cittadini, poco gli importa. Scrivono ancora i consiglieri Enzo Giudice, Virginia, Farru, Giangelo Amato e Simone Morgana. L'acqua è un diritto e non può essere oggetto di beghe interne. Pensi? Il sindaco continua nei quattro consiglieri comunali a tutelare i suoi concittadini senza usarli come scudo contro calta acqua. I consiglieri del Movimento 5 Stelle invitano i cittadini a pretendere la fornitura del servizio andando presso gli uffici competenti, chiedendo che un eventuale diniego sia messo per iscritto dall'amministrazione o da calta acqua. Perché i diritti non si calpestano? Perché il gioco delle parti non può offendere la dignità? Il sindaco fa populismo, conclude la nota, senza risolvere problemi, senza programma continuo a perdersi. L'ordinanza sindacale, nella sua assurdità logica, parla chiaro, se calta acqua non ottempera l'ordine sarà il comune a fornire l'acqua e poi a rivalersi su calta acqua. Bene, la guerra la si può fare, ma il diritto primario non può mai essere negato. Procede il comune alla tempestiva fornitura dell'acqua. È stata la prima di una serie di audizioni che la Commissione regionale antimafia ha predisposto sul caso Caltanissetta, anche alla luce della recente operazione per la nera che ha coinvolto i vertici dell'ufficio tecnico comunale. Tre ore di audizione a Palermo per il sindaco Giovanni Ruvolo, il segretario generale Rita Lanzalaco ed il capo ufficio tecnico Giuseppe Tomasella hanno risposto punto per punto alle domande del presidente Nello Musumeci e dei deputati commissari. I tre sono stati sentiti separatamente, senza neanche incontrarsi all'uscita di ogni singola audizione, per non dar loro modo di potersi consultare. L'indagine della Commissione antimafia parte da alcune segnalazioni relative a presunte condotte illecite da parte di alcuni soggetti della politica e dell'amministrazione tecnica. L'attenzione dell'antimafia dell'Ars è puntata essenzialmente su due versanti, l'attività urbanistica, la gestione dei rifiuti e i doveri di trasparenza nell'ambito della burocrazia comunale e, dall'altro lato, le presunte contiguità o rapporti di alcuni consiglieri comunali con soggetti mafiosi o appartenenti ad organizzazioni criminali. Già da alcuni giorni abbiamo chiesto ed ottenuto dal comune di Caltanissetta alcuni documenti utili per la nostra indagine. Così ha dichiarato il presidente Musumeci che, voglio ricordarlo, non è finalizzata all'accertazione di fatti penalmente rilevanti competenza questa che svolge benissimo la magistratura ma di condotte politiche e amministrative eticamente incompatibili con le buone prassi. Il nostro compito, continua Musumeci, insomma, è quello di accertare se anche nel capologo nisseno la politica si è dotata dei necessari anticorpi per rendere trasparente l'operato di ciascuno chiamato ad esercitarla pur nella diversità dei ruoli. Sapremo presto, ha concluso il presidente dell'antimafia, se le segnalazioni pervenute alla nostra commissione sono frutto di attività denigratoria o supportate da fatti concreti. Saranno ancora sentiti nel corso degli istruttori altri amministratori del comune attuali ed ex ed alcuni consiglieri comunali della passata legislatura e di quella in corso e pare anche tutti i presidenti delle commissioni trasparenza che si sono succeduti nel corso degli anni. Infatti lo spettro di tempo sul quale la commissione indaga sono gli ultimi sei anni. Realizzazione di spiagge libere con zero barriere lo chiedono i consiglieri comunali Luigi Didio, Sara Bonura, Salvatore Sammito e Angela Mato componenti della sesta commissione consigliare. Siamo alle porte della stagione estiva e molti accessi alle spiagge libere sono prive di pedane per far raggiungere la battigia ai bagnanti e a chi ha difficoltà motori o percettive scrivono in una nota Siamo nel 2016 e molte spiagge nazionali oltre alla passerella di accesso a mare per bagnanti sono dotate di servizio salvataggio a mare e di sedi da mare per disabili. Chiediamo all'amministrazione comunale quali iniziative urgenti intende adottare per risolvere il problema e se è sua intenzione dotare gli accessi a mare di pedane di ingresso e se oltre a dotare le spiagge libere con sorveglianza e soccorso balneare di integrarle anche di sedi da mare per diversamente abili. L'associazione Demetre e Core passa all'attacco e minaccia azioni legali nei confronti di chi utilizzando i social ha pubblicato post diffamatori con accostamenti non veritieri su presunti trattamenti di favore dall'amministrazione comunale nei confronti dell'associazione. Il presidente Giorgia Cavallo in una nota chiarisce di aver dato mandato ad un legale per denunciare fatti alla magistratura e ha deciso che eventuali risarcimento e danni che gli saranno riconosciuti verranno devoluti in beneficenza. Giorgia Cavallo nel ringraziare quanti hanno partecipato alla festa dell'abbondanza per il contributo e l'impegno profuso nei tre giorni e per il suo buon esito della manifestazione è precisa che la festa non ha avuto fini di lucro e che il patrocino del Comune di Gela è consistito semplicemente nella messa a disposizione del suolo pubblico e la predisposizione della chiusura delle vie e piazze interessate alle manifestazioni. Il bilancio della manifestazione è visionabile su richiesta da far pervenire con messaggio sulla pagina Facebook ASS Demetra Core. Abbiamo incontrato i clown di Corsia che in questo momento stanno reclutando nuovi volontari in tutta la provincia di Caltanissetta per l'associazione Viviamo in Positivo. Vediamo. Voi siete gli angeli di Corsia portate un sorriso ai bambini specialmente negli ospedali. Sì sono clown smidollata la presidente dell'associazione VIP Viviamo in Positivo di Caltanissetta. L'associazione è un'associazione federata quindi siamo presenti in tutta Italia in 55 città e la sede nazionale è a Torino. Siamo clown volontari e ogni domenica facciamo volontariato in pediatria e in oncologia all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e facciamo anche volontariato nelle case di cure andiamo nelle scuole a fare progetti. A breve ci sarà un corso di formazione quindi tutti coloro i quali volessero intraprendere questa nuova attività di volontariato per regalare sorrisi cosa devono fare? Esattamente la prossima settimana il 6, 7, 8 maggio ci sarà un corso base verrà il nostro formatore di VIP Italia proprio a formare a reclutare nuovi clown però poi dopo il corso base la formazione continua attraverso le nostre trainer le nostre allenatrici e qui alla mia sinistra abbiamo Scintillosa Cosa vuol dire essere un clown di corsia e perché diventare un clown di corsia? Essere un clown di corsia significa avere tante emozioni da distribuire a chi incontri essere trainer significa avere la responsabilità di conteggiare gli altri a essere dei clown formati formati forse una parolona formati siamo noi allenatori che alleniamo i nostri clown come squadra con degli esercizi che ci rendono in sintonia in fiducia un gruppo forte per poter poi andare in ospedale a portare sorrisi voi siete un gruppo molto nutrito siete insomma provenite da esperienze professionali eterogenee completamente diversa l'uno dall'altra però insieme avete un unico obiettivo che è quello di alleviare la sofferenza di chi sta male esatto il bello del volontariato è questo che è un dare avere noi siamo convinti di la domenica di andare a donare ma alla fine usciamo che abbiamo ricevuto molto veramente tanto in realtà quello che ricevete forse è maggiore di quello che riuscite a dare perché il sorriso che si dà torna indietro la clown terapia è proprio una terapia non solo per chi rigeve ma anche per noi chiediamo quindi vi aspettiamo con tanto affetto questo weekend venite a fare il corso base mancate solo voi mi raccomando vi aspettiamo costruiamo il futuro in una città che cambia dalla rassegnazione al progetto per una nuova economia sociale il titolo del convegno promosso dalla diocesi di piazza Armerina tramite l'osservatorio pastorale di Gela fortemente voluto dal vescovo Rosario Gisana che si terrà domani alle 17 presso l'auditorium dell'istituto tecnico commerciale Luigi Sturzo di Gela l'osservatorio pastorale cittadino composto da laici impegnati con una significativa esperienza di animazione sociale provenienti da tutte le parrocchie gelesi è presieduto dal vicario foraneo Michele Mattina ed è stato costituito in supporto al servizio del vescovo con la missione di sostenerlo nella sua azione pastorale sarà celebrata sabato 30 aprile prossima alle 10 presso la sala convegni di Villa Peretti a Gela la 54esima charter del Lions Club di Gela presieduto dall'avvocato Antonio Gagliano nel corso del prestigioso evento è prevista la cerimonia del gemellaggio dei clubs di Gela termini merese oste termini mera cerere nel pomeriggio gli ospiti saranno accompagnati per un tour nelle aree archeologiche più significative di Gela ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale una competizione di idee che mira di incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel comprensorio di Gela si tratta dell'evento Nice to Pitchu previsto per sabato 30 aprile prossimo nella prestigiosa sede di Palazzo Mattina in corso Vittorio Emanuele al numero 411 finora dalla data di presentazione sono numerose le idee di imprese innovative pervenute la competition promossa da ShipLab prima nel suo genere ad essere organizzata nel territorio locale si inserisce in un contesto storico economico che oggi ha urgente e assoluta necessità di riscoprire nuove attitudini l'evento rappresenta un'occasione imperdibile per gli aspiranti imprenditori di presentare la propria idea di business ad un pubblico di potenziali investitori interessati a sostenere progetti vincenti riguardanti la tecnologia la smart city il turismo sociale l'agroalimentare e l'arte Caltanissetta o meglio l'inaugurazione della bretella della A19 che congiunge Palermo a Catania sarà una delle tappe del quarto viaggio del premier Matteo Renzi in Sicilia lo annuncia direttamente il primo ministro prima il premier farà tappa a Palermo poi spostandosi verso Catania si fermerà a tagliare il nastro del raccordo che da Caltanissetta arriva all'autostrada Palermo-Catania che fa parte del raddoppio della strada stagiale 640 Caltanissetta Grigento e su Twitter già il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone scrive Matteo Renzi sabato in Sicilia firma il patto per Palermo e Catania grande impegno per la Sicilia e per le sue infrastrutture il premier ha già stato in visita a Gela a termini merese nell'agosto del 2014 nel suo tour fra le zone italiane in crisi poi a settembre a Palermo a Brancaccio per l'inizio dell'anno scolastico e a Mondello per visitare lo start-up Mosaicon qualche settimana fa il suo arrivo a Lampedusa stavolta due tappe Palermo e Catania per completare la firma di quei patti per la città che serviranno ad utilizzare in modo efficace e veloce i fondi europei non si hanno ancora dettagli del suo passaggio in provincia nei tempi nei modi probabilmente tutto sarà più chiaro nelle prossime ore Siterrà giovedì 12 maggio prossima alle 19 presso i locali del Museo Archeologico di Gera la presentazione del romanzo di Vera Ambra Piume Baciatemi la guancia ardente porteranno il saluto della città natale di Salvatore Damaggio le autorità cittadine i presidenti delle associazioni Rotary Club FIDAPA Lions Club del Golfo Chivanis Proloco Gela Archeoclub Lega Navale Piume Baciatemi la guancia ardente è un romanzo storico e biografico liberamente ispirato alla vita e alle eroiche gesta di Salvatore Damaggio tenente bersagliere mitragliere gelese protagonista indiscusso della grande guerra il libro ha ottenuto il logo ufficiale per il centenario della prima guerra mondiale concesso dalla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della presidenza del Consiglio dei Ministri e anche il patrocino morale dell'Associazione Nazionale del Fante adesso vi proponiamo un servizio dedicato all'iniziativa Musica e Mito nelle immagini del Museo di Gela che si è svolta ieri al Teatro Comunale Eschi lo vediamo Musica e Mito nelle immagini del Museo di Gela l'iniziativa che porta la firma del quarto circolo didattico Luigi Capuana diretto da Cetta da Mongelli si è svolta ieri al Teatro Comunale Eschilo entusiasti i docenti e i genitori degli alunni sul palco gli studenti delle classi quarte delle sezioni E ed F che sono stati coordinati dagli insegnanti Marianna Di Rocco Lorella Lidestri Giussi Riccobene ed Angela Romano direttore d'orchestra il maestro Giuseppe Vacca Presidente lei ha voluto fortemente questa manifestazione che ha richiamato l'attenzione del pubblico presente a dimostrazione del fatto che quando vuole la scuola assieme alla cultura dà una grande rinfa alla città Quando vuole la scuola insieme ai genitori la scuola proprio nel suo complesso intendo la scuola dirigente uffici di segreteria docenti che lavorano fortissimamente e i genitori che hanno contribuito tantissimo a questo lavoro è un lavoro inserito nel tempo scuola attuato in orario pomeridiano che sono i nostri bambini mini guida la conoscenza del territorio io conosco amo e quindi hanno lavorato tantissimo sui miti che vengono miti greci che vengono fuori a conoscenza attraverso le immagini vascolari del nostro museo Infine c'è l'informazione cinematografica è un paese quasi perfetto con Fabio Volo il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela sono tre gli orari di rotazione della pellicola ve li ricordiamo 17.30 19.30 21.30 sabato 30 aprile alle 21 sarà replicato lo spettacolo attenti a quei due con Guglielmo Greco Emanuele Giammusso e l'oreardore sabato 7 maggio sempre al Cineteatro Antidoto di Macchitella alle 21 sarà portata in scena dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Gela lo spettacolo Noi Donne ma soprattutto Madri la rappresentazione mette insieme diverse opere celebri del panorama letterario all'interno di una cornice attuale vicina ai fenomeni e alle dinamiche della società moderna l'appuntamento chiude la rassegna Teatro 2015-2016 promossa dal Piccolo Teatro Città di Gela è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortesa attenzione e grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione vi ricordiamo che servizi notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il canale 10 è dotato anche di un altro strumento il televideo che è sempre aggiornato arrivederci grazie per la visione